Migliaia di persone sono scese in piazza a Minsk, in Bielorussia e in Lituania per protestare contro la morte dell'artista Raman Bandarenka, l'uomo 31 anni morto giovedì in ospedale dopo essere stato picchiato dalle forze di sicurezza. La polizia ha arrestato l'artista durante una protesta antigovernativa, Raman ha tentato di impedire che venissero tolti dei nastri biancorossi, colore simbolo della protesta. La leader dell'opposizione, Svetlana Tikhanovskaya. Faremo tutto il possibile per indebolire il regime, ripristinare la legge e avvicinarci alle libere elezioni. Per Raman Bandarenka, per i prigionieri politici, per i nostri parenti e per noi stessi, per tutti coloro che sono stati uccisi, per il desiderio di vivere in una nuova e libera Bielorussia. Le proteste in Bielorussia continuano ininterrottamente da oltre tre mesi, per l'esattezza 94 giorni, dopo le elezioni del 9 agosto vinte dal presidente Alexander Lukashenko, ma con evidenti brogli secondo l'opposizione. L'Unione Europea, già condannato alla violenta repressione di queste manifestazioni da parte delle autorità bielorusse, al tempo stesso gli stati membri dell'UE hanno chiesto alla Commissione Europea di preparare un piano di sostegno economico per la Bielorussia. La presidente Ursula von der Leyen. L'Unione Europea è pronta a mobilitare tutti i suoi mezzi economici per sostenere e accompagnare il cambiamento democratico in Bielorussia. Centinaia di persone hanno deposto fiori dopo la morte di Raman Bandarenka nel luogo dove è stato arrestato. Dall'inizio delle proteste le vittime sono già quattro e le persone arrestate dalla polizia bielorussa oltre 17.000.